Le ripercussioni del conflitto in Ucraina e il previsto arrivo dei profughi anche nella nostra regione. A Savona a mezzogiorno è iniziato un vertice operativo per affrontare l'eventuale emergenza. Ci riferisce Oscar Puntel. L'obiettivo è fare il punto sulle risorse che i comuni del Savonese, ma anche il mondo del terzo settore e la Chiesa possono mettere in campo per dare una mano al popolo ucraino in fuga dalla guerra. Il tavolo è convocato a mezzogiorno dal prefetto di Savona, Antonio Cananà, con i sindaci della provincia. Una riunione in remoto dalla sala della protezione civile della prefettura. La priorità del prefetto è organizzare la rete di solidarietà partendo dalle risposte del territorio in termini soprattutto di strutture disponibili per un modello di accoglienza che sia diffuso, considerato anche che le persone che dovranno arrivare sono soprattutto donne, bambini e anziani. Intanto continuano anche gli aiuti sul territorio, le iniziative di solidarietà da parte delle associazioni e delle parrocchie. Questa mattina abbiamo assistito alla preparazione del primo tir in partenza per l'Ucraina, allestimento con una trentina di bancali, di derratti alimentari e vestiari provenienti da tutto il Savonese. E' completato anche un secondo tir proveniente da Genova. Sentiamo allora quello che ci ha detto il prefetto di Savona appena conclusa la riunione, poi linea allo studio. I numeri nell'immediato abbiamo oltre un centinaio di posti disponibili nell'immediato. Uno degli obiettivi della riunione era proprio invece allargare questa disponibilità e quindi per fare questo abbiamo colloquiato sia con gli enti gestori dell'accoglienza e soprattutto con i sindaci.